Mi ha fatto paura comunque l'idea di parlare davanti a tante persone, lo ammetto. Ho pensato in quel momento, lo devo fare, lo devo fare perché io sono sempre stato in questa scuola che mi ha supportato, mi ha voluto bene, dai docenti, dai miei compagni di classe, da quelli di scuola e perciò ho scritto un tema e vorrei appunto condividerlo con voi che è sostanzialmente il frutto della mia ottica, della mia esperienza all'interno.